E salve amici della Taverna Vodka Anche questa giornata è arrivata Oggi è giorno, quindi ho la luce di fronte e Dylan c'è la luce di dietro Non avevo voglia di abbassare la tappa raga, finalmente c'è un po' di sole qua a Genova, godiamocelo Perché come avevi detto, miracolo che c'è il sole a Genova, ho pensato anche alla Gran Bretagna, insomma a Londra Che non c'è mai il sole e quindi poi ho pensato che gli avete prestato la bandiera e quindi tutto coincide Per chi non avesse colto la città ragazzi dovete recuperarvi la scorsa puntata, tra l'altro che abbiamo fatto con ospite d'onore Buon Seba, un buon storico Storico tra virgolette come ho messo nel titolo Perché insomma ancora studia, ancora studia, quindi però sicuramente è più storico di noi Anch'io non ho ancora una laurea di ingegneria però mi spazio già per Taverna Salve, che cosa fa lei? Ma sono un ingegnere turbochimico Un ingegnere turbochimico, bello, mi piace, mi piace, ci sta Ha il suo perché, ha il suo fascino Vabbè, insomma, di che cosa si parla oggi? Ma oggi tema spaziare, uno dei miei preferiti è anche mi sa quello di Cooper Assolutamente sì e poi comunque abbiamo detto che bisognava farne uno di cui si parlava di spazio E poi comunque ci sono anche tanti giochi sullo spazio, madonna sto cavo Tra l'altro mi sono messo anche la maglia adatta Io me lo sono messo a celeste come Come il cielo Sì A caso Quindi come la nostra atmosfera, come le nostre... come il mare, come il cuore del nostro pianeta Mi sembra giusto, mi piace, come più del 70% del nostro pianeta Esatto, esatto, madonna questo cavo mi si blocca sempre Ma fa culo, vai via Ah, spazio, ci sarebbe un'infinità di cose da dire Io sto diventando rosso Sia a livello scientifico, sia anche a livello di intrattenimento Perché con tutti gli itali, film, videogiochi che hanno fatto in tema spaziale Qua non si finisce più praticamente Esatto Eh, però è stupendo Credo che sia... Boh, a parer mio uno dei temi più belli è che... Ultimamente stiamo un pochettino riscoprendo Perché ora come ben sapete c'è stata recentemente la missione della NASA di Perseverance Il rover su Marte Il secondo rover Il secondo rover su Marte ed è stato comunque un passo importante È sempre un passo importante Qualunque cosa vai nello spazio è un passo importante Sì, 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 è proprio Però Perseverance è lì che trasmette immagini Qualche volta anche quando la NASA rilascia anche fai l'audio Ed è molto, molto figo Concettualmente pensare che quello che stiamo vedendo O quello che stiamo sentendo Si trova su un altro pianeta Diciamo che magari nel primo rover è stato storico È stata un'impresa fantastica Però forse non si aveva forse la stessa percezione Che adesso stiamo avendo con Perseverance Beh, esatto Comunque sicuramente il primo rover è sempre come le prime volte Che accadono certe cose È sempre l'apice, diciamo Però anche se dopo a distanza di moltissimi anni Ne hanno rimandato un altro Che fortunatamente è andato tutto benissimo Però comunque c'è sempre la stessa emozione Perché non capita tutti i giorni Però ancora di più Proprio perché ce lo possiamo vivere tra virgolette Un po' di più Immagini in risoluzione molto meglio Molto più fica L'audio quando ce lo danno Che poi, ok, l'audio dici Wow, senti del vento Però dici cazzo Cioè, non è il nostro Cioè, è sempre vento Ma è da un'altra parte Esatto Concettualmente è una roba fighissima Ma credo che a breve poi Spero a breve Vivremo le stesse emozioni Un po' con quello che è il progetto Artemis Della NASA Quindi quando inizieranno a mandare Delle persone sulla luna Di nuovo Però perché È figa la cosa Perché nessuno di noi Almeno Per l'età che ho io E per l'età che ho Gippo Non abbiamo mai assistito all'allunaggio A fine anni sessanta Quando accadde Quindi è figo È bello Vederlo dal vivo Anche se non è la prima volta Che l'uomo metterlo sulla luna Però è sempre una cosa importante Però sono tipo Sì, sono tipo i Anche se sono passi già stati fatti Ma sono pur sempre enormi passi Nuovi Che possono portare a qualcosa Appunto Comunque questa missione È di colonizzarla E di farci un qualcosa Le prime Le prime stazioni Le prime Sì Le prime casette Su Sulla luna Vediamo Esattamente L'incipit Però intanto Sì Si tratta di colonizzare La luna E qua poi si aprirebbero Un sacco di tematiche Fino a quanto l'uomo Si spinge a colonizzare La luna Quanto no Quanti danni potrebbe Arrecare un uomo Tra virroette stabili Sulla luna E qua poi Sorgono un sacco Una miglia di tematiche Di cui noi Adesso ce ne sbattiamo le parole Perché in realtà no Sono argomenti importantissimi Però Non li tratteremo Qua anche perché Non siamo esperti No infatti Noi siamo solo appassionati Basta Esatto Siamo solo stra appassionati Stranete Io poi con sta maglia Io per quanto Sono stra appassionato Dello spazio Non ho Nessuna maglia Niente di niente No Tema spazio no Cioè oddio Questa non è Proprio tema spazio Ora Apri chiama Prende Tema scientifico Diciamo Esatto Sono le quattro equazioni Di Maxwell In forma globale Che Diciamo Spiegano I campi elettromagnetici Di cui poi lo spazio Ma anche sulla terra Ne è pieno Noi stesso Le vediamo dei campi Che Tra l'altro Non so se te lo sai O se qualcuno Lo sa Del come funziona Un codice a barre Sembra stupido Dice Cazzo Tantissimi si chiedono Come funziona Il codice a barre Che dice Cazzo Che cazzo Signifiano quelle lineette Sì Funziona Allo stesso modo Dello spettro della luce Quindi se te Con uno spettrometro Guardi la luce Ci sono queste stanghette nere Ogni stanghetta Il loro spazio La loro grandezza Ha una Una molecola Di fare Una molecola Di Un atomo diverso Di Di quello che c'è Così capisci Com'è l'atmosfera Stessa cosa Funziona il codice a barre Quindi in base A quanto è piccolo Grande Staccato Eccetera Ha questo utilizzo Hanno utilizzato il modo Nello spettrometro Ma pensate Non lo sapevo No Non lo sapevo Devi guardarti Cosmo Su Disney Plus Te l'ho detto Ti dicono tante cose Ho visto le prime due puntate Tra l'altro Ragazzi Se anche voi siete appassionati Di spazio Una serie Documentaria Fantastica Cioè È fatta bene Fatta veramente bene Anche a livello Di effetti visivi Sì assolutamente È veramente figo Sì 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 La trovate su Disney Plus Disney non ci paga Per dire questo Un saluto comunque a Disney Quindi quando diciamo Disney Plus E muterò Perché non ci paga E quindi dico solo Che lo troverete Però no È molto bella Devo continuare Che ho visto le prime due puntate È molto bella Però purtroppo Il tempo è quello che è La vita fa schifo La vita è come una scatola Di cioccolatini Finisce Ah ok Le citazioni Per me invece È come una scatola Di cioccolatini È scaduta Allora Non posso Mai No No Vabbè Comunque No Eh comunque Questo Questa puntatina Di spazio Anche perché ci sono Giochi spaziali Molto interessanti Alcuni abbastanza Accurati Come potrebbe essere Un Elite Dangerous Visto che Che il 29 Che credo sia Lunedì Di marzo Esce L'alpha Di Odyssey Del nuovo DLC Che finalmente Si può mettere Piede Proprio piede Perché adesso ci si può Atterrare sui pianeti Ma adesso ci si può mettere Proprio piede Con il personaggio Quindi poi ci sono anche Contenuti FPS Missioni Su Dove devi Magari attaccare Un villaggino Un coso Una stazione Veramente una grande Espansione Che aggiunge Una meccanica Enorme al gioco Che già Il gioco comunque Per chi lo conosce Sa che è Enorme Di per sé Con quello che offre Attualmente Quindi figuriamoci Veramente implementare Tutta questa cosa qua Anche il sistema Di shooting In sé Comunque ti permette Di spaziare Un'infinità Di situazioni Che si possono Carare Nel fantastico Universo Di Elite Danger Che poi è il nostro Sì è vero È il nostro Però addirittura Se andate avanti Con la federazione Mi pare Se non mi sbaglio Sbloccate l'accesso Al sistema solare Nostro Quindi al sol E potete poi visitare Gli altri pianeti Che purtroppo Non ci si può Atterrare Io ho provato Sul pianeta terra Però è una figata Cioè vedi il nostro sole Vedi la luna Vedi la terra Marte Giove Tutti i manti È figo Ovviamente Non credo Che anche quando Mettano questa espansione Ti diano la possibilità Di attaccare Sulla targa Perché richiederebbe Un lavoro Sarebbe tipo Dovrebbero utilizzare Un altro server Solo per Farti entrare Esatto Poi per gli altri pianeti Magari no Sai magari Marte È un classico Pianeta Che dove ci può andare A tra fine È tutta roccia Eh sì Però Però dipende Perché comunque Secondo me Proprio sul sistema solare Non ti faranno Atterrare Da nessuna parte Perché essendo che È il gioco ambientato Tanto tanto avanti Nel futuro Che diciamo I viaggi interstellari Si riescono a fare Questo implicerebbe Che ormai Abbiamo colonizzato Quasi tutto Nel sistema solare Quindi magari Ti ritrovi una Marte Piena di Megalopoli Per esempio Eh può essere O magari Una Marte ancora più distrutta Per colpa nostra Ti immagini? In che? Beh Potrebbe essere Eh sì Come sta succedendo qua Perché non potrebbe succedere Anche di là No no Infatti Tanto siamo nati per distruggere Siamo bravissimi Facciamo schifo Siamo veramente Una razza incredibile Erano meglio i dinosauri Meritiamo l'estinzione Ma vabbè No vabbè Elite Dangerous È comunque molto bello Io non vedo l'ora che esca Così posso riprenderlo Perché Credo che Ci giocherò molto di più Con questa meccanica Perché è bella La cosa Dell'astronave Però A me piace Poter fare anche Altro E magari C'è chi In questo momento è fan Mi sta Mi picchierebbe Per quello Per fare altro Cioè Puoi fare un bordello Di modi Se puoi fare talmente Tante cose Che poi non sai Che cosa fare Perché C'è talmente Tanta roba Che E poi è impossibile Cioè Devi riuscire a trovare Proprio un coso focale Sì esatto Non è detto che ci riesci Per quanta roba c'è Però mi piace Questa cosa qua Mi sbaglia Trevi Mentre come Mi sbaglia l'idea Che Poi Qualcora Gimmi se sbagli I sviluppatori Hanno detto Che in futuro Vorranno mettere L'opzione di girare Nella propria nave Sì Assolutamente Perché comunque Come lo volevano farlo Che puoi girare Nei pianeti E andare per terra Puoi farla anche Sulla tua nave Però Anche lì richiede Un nuovo lavoro enorme Cioè È proprio una cosa assurda Sì anche perché Non sono poche le navi No Non sono poche Sono Sono grosse Sono Sono grosse Spalutturate Bene Quindi ovviamente Essendo che non stiamo parlando Di uno star citizen Dove le cose Vengono fatte col culo Allora Star citizen L'ho sempre preferito Ma anche come te Per la sua immersività È veramente bello Comunque anche la grafica Ti fa entrare di più In quello che è il gioco E tutte le cose Che puoi fare nella nave I vari schermettini Le cose Su late dangerous Non c'è Ci sono delle Sottospecie di schermi Ma tipo ad esempio Uno dove controlli Missioni E altre cose Come Le cose che hai vicino Oppure c'è quello Dei messaggi Oppure c'è quello Del Tutta la gestione Della nave In un solo pannello Però ecco Star citizen C'ha proprio Il singolo pannello Fai singole cose Che effettivamente Fanno qualcosa E poi Girare nella nave Ad esempio Se c'è una nave grande Hai bisogno proprio Di una tua crew Che quello Tiene d'occhio Magari Il raffreddamento Del motore Quell'altro Tiene d'occhio Il generatore Degli scudi E così via E quindi L'immersività Su star citizen È veramente Veramente bella Peccato Perché è fatto Un po' Col buco del culo Perché hanno preso Il pisello L'hanno sbattuto Sulla tastiera Un po' come code Ed è così Che hanno programmato Le tante Tante righe Di codici O forse poche Che ha Star citizen E' un peccato Perché comunque L'immersività Si sente Ma da parte La percepisci Comunque Cagata Per esempio A me sbaglia L'idea Che posso aprire E chiudere Il portero Mi fa impazzire Quella cosa E comunque Lead Dangerous Già Con questa cosa Che te puoi atterrare Cioè Poi puoi andare Fisicamente Sul pianeta Camminarci Spare Insomma Tutte le cose FPS Eccetera Ha già un po' Messo Paura A quelli Di star citizen Perché Sì Perché il gioco È fatto bene Gira bene Non ha problemi E Gli manca Soltanto L'immersività Che puoi girare Dentro alla nave Gli manca solo Quello E Ammazza Star citizen Quindi Lo ammazza Anche se C'è una cosa Che secondo me Quegli sviluppatori Di elite Non punteranno mai Perché non è il loro gioco E star citizen Se funzionasse Sarebbe molto figo Che è proprio Il fatto di Sentirti dentro Un universo Vivo Che in elite Dangerous C'è perché Basti pensare Soltanto all'economia Che è una cosa Enorme Sì c'è di tutto Però la cosa Che mi sbaglio Di star citizen È l'idea Di Atterrare Su un pianeta E avere davanti a me Questa città Che è grande E poter magari Andare nel quartiere Con i negozietti Fare acquisti Finire in prigione Per esempio Se faccio delle cagate Mi catturano E quindi poi Per scontare la pena Devi minare E consegnare le cose Che mini E ti scontano la pena Esatto Oppure Ti fai Gli affaraci Tuoi aspetti Comunque il tempo Che ti hanno dato Sì sono quattro ore Sono quattro ore reali Esatto Però tutto questo Lo rende vivo Cioè Però ci sta Perché è quello A cui punta star citizen E che non Diciamo non punta Tra virgolette Elite Dangerous Elite Dangerous Punta a un'esperienza Di esplorazione Più che altro Te ti crei te stesso Perché puoi fare il pirata Ad esempio Vidi Un video di uno Che seguo ogni tanto Per Elite Dangerous E diceva che Giocarlo online È veramente una figata Perché la gente Fa roleplay Quindi ti chiama Sulla tua nave E proprio ti parla E ti dice Ehi dammi il tuo carico Sennò un po' come Quelli che quando vai a minare Ti mandano i messaggi Ma sono È lì Se giochi nel tuo server privato No Molto figo Questo Questo è molto figo Però Ecco Loro puntano Per un'esperienza Di esplorazione Perché hai L'intera via latte Da esplorare Esatto E dopo 15 anni Che c'è il gioco Non è stata esplorata Tutta Ma credo L'1% Forse Ma credo che sia Quasi impossibile Secondo me Cioè Ragazzi Stiamo parlando Della via gattia Non stiamo parlando Di Cioè È Una galassia Però C'è comunque Chi è uscito Dalla galassia Ah Andato nel deep space Nel deep space E ci sono comunque Qualche pianetina Qualche luna Ed è una figata Perché ho visto questo video Sono atterrati Su questa luna E guardavano Tutta la galassia Cioè Tutto intorno nero E c'è proprio La nostra galassia E questa è una figata Cazzo Questa è proprio La cosa di esplorazione Che loro Questi Le cose fighe Una cosa Che va sicuramente A favore di Elite Dangerous È che Fisicamente È strutturato bene Cioè Proprio a livello fisico Oltre al fatto Che le cose Che vedi Cioè Sono fatte bene Tipo i buchi neri O Le stelle Di neutroni Sono tutte fatte bene Come Sono nella realtà O come Diciamo Ipotizziamo Che siano Nella realtà Da ovviamente Le equazioni matematiche Fisiche che abbiamo E Questa cosa È molto bella Ma Altra cagata Che è fatta Molto bene Il sistema Di attrazione Grafitazionale Di un corpo Massiccio Che possa essere Una stella O un pianeta E quindi Questo implica Che ha fatto Anche molto bene L'entrata E l'uscita In atmosfera Da un pianeta Cioè Per certi momenti A volte Ho detto Oddio sto giocando A Carball Space Program Quando dovevo Atterrare Su un pianeta E sta cosa è figa Cioè Vuol dire che Hanno fatto un ottimo Lavoro anche a livello Fisico Cosa che in Star Citizen Per quanto Diciamo dovrebbe puntare Più all'immersività Quindi anche a un realismo Non ho percepito Non Cioè È tutto molto Veloce È molto arcade Sì Diciamo comunque Il sistema di guida È arcade Quello di Star Citizen Esatto Perché io non credo Si puntino più su quello No Anche perché Per adesso Comunque Per adesso Cioè Da quando è uscito E chissà per quanti anni Ancora C'è soltanto un sistema E Se si mettono anche a fare Un universo Più sistemi Qua è finita Cioè No No Ma Io ho molta paura Per Star Citizen Se devo essere sincero Perché È un gioco enorme Che ha un concept Geniale Però allo stesso tempo Grande E se loro Come stanno facendo adesso Al posto di risolvere bug Continuano ad aggiungere cose Poi fa Fa effetto tipo Effetto snowball Ok Ha fatto palla di neve Che la rotola Diventa sempre più grande Ok Se tu non correggi Questi bug Che hai di fondo E continui ad aggiungere E implementare robe Ti ritroverai ad avere Sempre più bug Che magari vanno anche In conflitto Tra di loro Ed è un bel casino A livello di codice Mi sono sistemato Anche la web Tanto Gipo qua giocava Con le luci Sì sì No E che quando c'è il sole È difficile Riuscire a capire Come devo Che c'ho proprio la finestra qui E devo riuscire a capire Come gestire Adesso è un po' più A favore di luce Io c'ho contro luce Vabbè Però adesso Sembra un po' più Realistica Ecco Più normale Quindi niente Questa era Situazione un po' Elite Dangerous E situazione Star Citizen Io sono molto fiducioso Di Elite Perché come dicevamo prima Star Citizen La vedo veramente Molto dura C'è proprio Un problema di fondo C'è una malorganizzazione A livello aziendale Incredibile Perché i soldi ce li hanno Sono pieni Da far schifo di soldi Perché hanno ricevuto Un sacco di Soldi dai Ma poi Sì ma non solo Comunque Quando Una Durante un loro Ehm Come si chiamano Brainstorming No durante tipo Tipo la La fiera Tipo il Blitzcon Però quello loro Diciamo Conferenza E dove parlavano E hanno poi annunciato Questa nuova nave Che deve ancora uscire Che costava Più di mille dollari Costa Perché E Nella prima ora Hanno fatto milioni Appena annunciata Qualche ora Hanno fatto milioni Per questa nave Perché comunque Le navi sono veramente belle Sicuramente c'è Tantissimo tantissimo Lavoro anche di design Dietro Ehm Di Anche Eh Proprio lavoro Tecnico Di scripting E altre cazzate Che si fanno Quindi È l'unica cosa Fatta bene Secondo me Secondo me Non Non gli interessa Più del gioco Perché se gli interessasse Del gioco Loro al posto di Aggiungere nuove Features Che sono praticamente Delle macchine Per soldi Come in questo caso Una macchina Per carità Magari fatta anche Benissimo Però che costa Mille dollari Veri Santo cielo Ehm Non sistemano i bug E tutti i problemi Del gioco Quindi loro dicono Chissene Tanto noi Facciamo qualche volta Sta cagatina qua La gente la compra E noi ci facciamo In poche ore Milioni e milioni Di dollari Cioè Possono farlo Sì Scemi anche Chi 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 li acquista Secondo me Stupidi Un po' Quelli Che li acquistano A quelle cifre altissime O hai soldi da buttare O se dici Ok va bene dai Questo mese di stipendio Lo spendo per la nave O ti piace veramente Veramente Tanto il gioco E capisci come evitare i bug Oppure Sì però Non invogli sicuramente Gli sviluppatori Però vabbè Questo non è un problema Dell'utenza È un problema di base Gli sviluppatori Che Secondo me Non gli frega niente Sarà un progetto Che non verrà mai E poi mai terminato C'è Il nostro amico Che conosci bene Sì Signor D L'altro signor D Ok Che lui Ha parlato Con uno che lavorava Proprio Era uno sviluppatore Di Star Citizen Ok E gli ha detto Che non hanno voglia Di Di continuare a lavorare Sono un po' Fannulloni Anche perché Loro avevano bisogno Di soldi E allora hanno tirato fuori Quest'idea di Squadron Quindi la campagna Di Star Citizen Squadron 42 Loro però Non credevano Che andesse bene Proprio pensavano Che vabbè Andrà male Quindi noi facciamo Questa cosa Raccogliamo un po' Di soldi E chi se ne frega Però ha ricevuto Talmente tanto interesse Hanno raccolto Milioni e milioni E quindi si ritrovano A lavorare Su una cosa Che non volevano fare Quindi Squadron 42 E poi anche Il gioco in sé Quello che è ora Hanno troppe cose In cantiere Che non riescono A gestire Già fanno Fanno fatica Con una Fanno una fatica Incredibile Con una Ci aggiungiamo Anche Squadron Non ne porteranno A termine e mezza E come Aprono 50 cantieri E nessuno finisce Purtroppo Ad esempio Io non so Se ti Vidi Mai Il Il Cos Il trailer Credo fosse Un trailer Dove c'era Questo Sulla sua moto Nel deserto Spara 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 Tutto figo E poi Alla fine C'è il mega Vermone Che appare E cose E quella Veramente figa E quello che Proprio mi ha detto Cazzo Sky lo vado a comprare Perché se esce Una roba così Cazzo È il gioco del secolo E invece Devono ancora fare Ovviamente Era Era in game Proprio come Trailer Era registrato in game Però Probabilmente Una Una roba Loro che avevano fatto Un pezzettino Si erano creati Un pezzettino di storia Solo per fare questo trailer E via Sì era un setup Fatto apposito Come una scenografia Con un film Ecco Ma io guarda Con Star Citizen Mi ricordo che la prima volta Lo provai E inizio l'anno scorso Grazie a te Che mi avevi un attimo Prestato l'account Per provarlo E L'ho riavviato 7-8 volte Perché mi si Buggava all'inizio Quando ti alzi dal letto Nella prima città Diciamo Ho provato anche Multiplayer O Alla fine Una partita Team Deathmatch È stato un 1v1 Stato appaggato Sì sì è sempre All'inizio no Quando ci giocavo Tempo tempo fa Era sempre piena Adesso non ci gioca nessuno Mesi dopo L'ho acquistato Perché È spopolato Su YouTube Grazie comunque A vari YouTuber E anche streamer Per quanto riguarda La piattaforma Viola Famosi E quello che ho visto Mi è piaciuto Anche perché giustamente Non ti fanno vedere I bug Cioè perché sono Video tagliati Soprattutto su YouTube Ovviamente E quello che ho visto Mi è piaciuto Quindi io ho dato Un'ulteriore possibilità Perché magari ho detto Anzi Era anche uscito Un update comunque Da quando l'ho provato A gennaio A poi quando l'ho preso Un mega update Le prime ore Mi sono divertito Come un pazzo Poi sono subentrato I bug Sì A ruota Ma poi a ruota A ruota E il nervoso Perché non sono bug Che dici Ci fai quattro risate Sono proprio bug invalidanti Vabbè dai quattro risate Ce ne siamo fatti No no Quattro risate Su alcuni bug Sì Perché poi alla fine Ti arrendi Ridi per non piangere Basta Perché dico questo Perché comunque È un gioco impegnativo Cioè le missioni Non ti aspettare Fai una missione Da cinque minuti Esci Alcune missioni Magari possono anche Giocare delle ore E se Dopo magari tre ore di gioco Che ne so Stai per completare A termine una missione Ti si bug E hai tutto da rifare All'inizio E hai perso tutto Succede che Hai buttato Tre ore Della tua vita Cioè perché Non hai concluso nulla E in più Magari hai anche Buttato le ore precedenti Perché a volte Capita che il bug Ti toglie magari L'equipaggiamento Che ti hai rifatto Con le missioni precedenti Magari di una settimana Prima E sta cosa È brutta Un po' come succedeva Quando te Eri andato in prigione Sei uscito Non avevi più niente Io invece Sono uscito E mi era rimasto tutto Adesso Quando fecero L'ultimo aggiornamento Che fecero La gente diceva Madonna Questo è un aggiornamento Bomba il migliore di sempre Ho detto Vabbè riproviamolo Mi connetto Mi mancavano Mi manca l'armatura Che usavo sempre Sì Le altre due ne avevo Avevo perso qualche arma Un po' di munizioni Avevo perso un po' di roba La roba E la pistolina per minare Cioè quindi Perdi le cose La cosa buona È che rimangono i soldi Ecco che ora iniziano A bagliare i cani Non mi ricordo Un uomo circondato Dagi animali Tipo Dylan E E Quindi questi sono Un po' Game breaking Cioè non è che rompono il gioco Ma ti rompono i coglioni E dopo dici Cazzo Io non è che ci ho Ci ho Ad esempio Ho detto Vabbè Ho fatto qualche altro soldino E mi sono comprato Permanentemente Il rover per minare Che minare con il rover È veramente una figata Ti prendi la tua nave Te lo metti sopra Vai a giro In un pianeta Scannerizzi E trovi i vari punti Poi In base Se c'è tipo il roccione Devi avere la nave Per minare proprio Invece se ci sono I piccoli cumuli Prendi il tuo rover Spari il laser C'è poi tutta la tecnica Per farlo Eccetera E allora Ok va bene Vado Ho visto qualche video Avevo trovato Tipo Antanite Qualcosa del genere Che valeva un botto Con il cargo pieno Della tuta che avevi Più Il rover Ci facevi Mi pare Un 220 mila Unità E potete fare Anche in 40 minuti Dipende Se avevi culo Nel trovare Tutte Tutte le risorse Allora ho detto Cazzo va bene Allora Mi metto a minare Va bene Causate Cazzate varie E non lo riempio tutto Però vado ad andarla A vendere Vado a provare A venderlo E E non me lo vende Cioè Non me lo fa vendere Ok va bene Poi Allora Torno indietro Non me lo fa vendere Da nessuna parte Poi mi crasha il gioco Lo riapro Vado a Richiamare il rover Non me lo fa prendere Quindi Poi Praticamente Tre ore di gioco Sono soltanto Io che esco dal gioco E rientro Richiamando la nave Di continuo Spendendo un sacco di soldi Per richiamare la nave Ed è stato un inferno Tuttora Ho il cargo pieno E Non lo posso vendere Almeno credo Non lo so Non ho più riprovato Poi Vidi Qualcuno che diceva Io Veramente Ho comprato Della roba L'ho messo cargo Sulla nave Poi sono andato a vendere Il cargo Quel poco Che avevo comprato Sulla nave E Mi ha funzionato Mi ha fatto vendere Poi anche Quella Quella roba Dico ok va bene Faccio così Dov'è che mi mette la cassa Davanti alla rampa E non posso salire Con il rover Non so dove vendere La roba E da lì Non l'ho più aperto Capito Ste cose Perché non sono bug stupidi Dovete fare 4 gol Sono proprio bug invalidanti Che ti rovinano Di tantissimo L'esperienza di gioco E No Io ero proprio contento Cioè ero proprio Cazzo Il gioco andava bene Non c'erano i problemi I classici Che scompariva la nave Sì Che Poi L'aggiornamento Prima di questo Avevano fatto Che avevano cambiato Un pochettino Il sistema di guida E quando ti dovevi entrare Uscire da Da una stazione Avevi proprio un percorso Da seguire Però Se non seguivi Questo percorso Ti esplodeva la nave Dopo un po' Oppure se volevi entrare Magari mancavi Per un millimetro Eri fuori Da questo percorso Ti tornava indietro La nave E cose eccetera E l'avevano tolto Ah ok ok E quindi Ero ancora più contento Perché ho finalmente Posso Andarmi Come prima Vai spazio Vai tutto in alto E è fan E quindi Ero stra mega contento Poi questa cosa Mi ha fatto cascare le palle E questa è più o meno L'esperienza di sempre Di Star Citizen Sì Ti gasi all'inizio Un po' Con l'ansia Perché Sei sempre lì Perché qualcosa Di brutto Tipo un bug Ovviamente Possa succedere Da un momento All'altro Anche se stai fermo Però per quello che vedi Ti piace Perché comunque Visivamente È fatto bene E a livello di immersività È pazzesco Poi Purtroppo Il 90% Del gioco È dipeso Dai bug E dai bug Invalidanti E sta cosa Rovina Non te vuol dire Devi Come Quando parlo con gente Che ci gioca Da tantissimo tempo Le cose che mi dicono È Devi conoscere i bug E imparare a evitarli Questo è l'unico modo Per giocarci Guida di Star Citizen Manuale così Non per capire Come fare economia Nel gioco Solo per capire Come evitare i bug Sì 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 Boh Peccato Comunque peccato Perché È un titolo Che ce l'ho Qui da tanto Dai tipi forse Di quando presentarono Cyberpunk Se non sbaglio Mi pare Penso a Star Citizen Che ha un'idea Di gioco Fighissima Però Irrealizzabile Con loro Irrealizzabile Con loro Come persone Come gestione Perché come fondi Comunque Per quanto sia grosso Ce li hanno Sì ce li hanno Minchia se ce li hanno Se gli mancano Ci mettono poco A rifarseli Vedi Quest'ultima Fanno la nave E l'annunciano Mille dollari È una figata Vai vai Preordinatela Vi uscirà Tra cinque anni Forse Vediamo Esatto Mentre è un gioco Di spazio Che invece Secondo me A livello esplorativo È tanta roba Tanto è vero Che con questo gioco C'è un nuovo effetto Che succede Nel mondo Video Così chiama Effetto No Man's Sky E per appunto Parlo di No Man's Sky Che è un gioco Che io e quest'uomo Comprammo Il Day One Io lo preordinai Insieme a Matteo Per la Play E io anche lo preordinai Su Play 4 E delusione Delusione Vabbè E all'inizio Io ero molto contento Mi piaceva Andavi a giro Di qua di là Ma non facevi più un cazzo Dopo le prime ore Dopo le prime ore Dopo i primi pianeti I primi sistemi Iniziavi a romperti Di tanto Le balle Sono passati degli anni Un anno Due Ora non mi ricordo Ergo Games Ha iniziato a rilasciare I primi update Quando tutti pensavano Ok questo è No Man's Sky Ce lo teniamo così Siamo stati scammati Di brutto Buonanotte Invece Esatto Come dico Sempre Sarebbe figo Fosse Già Fosse stato già così Dall'inizio Però meglio tardi Che mai Adesso è Un signor gioco Davvero Adesso è veramente Un giocone Molto bello Ci sono un bel po' di cose Da fare Ed è fatto bene Ed è fatto bene Ve lo consiglio Perché costa poco È in crossplay Lo su PC Volendo lo trovate Veramente a prezzi Bassissimi Proprio perché è uscito Da tanto E ci sono un bel po' di cose Da fare Una delle ultime Che hanno fatto È stata la cosa Delle Delle effette Dead space Ci sono queste navi Con gli acciaio Abbandonate Forse tu qua Puoi dire qualcosa di più Perché io Non ci sono mai andato Ancora Sì Te quando fai Il viaggino Quello Tipo sub luce Non quello che è proprio Proprio quello che va Stra mega veloce Per arrivare poi In un altro punto Dello stesso sistema All'interno del sistema Ok Ti appare che tipo C'è una richiesta di soccorso Qualcosa del genere Oppure c'è appunto E quindi poi c'è Questo relitto Di una nave cargo Allora te Atterri Non tutte Sono così Magari ci sono alcune Se è soltanto Un relitto Dove puoi sfondare Le parti cargo Per prenderti la roba Però comunque Quando ci sono Questi Questi altri relitti Dove ci puoi andare dentro Hai tipo una missioncina Che devi trovare Vari schedari E altre cose Dove poi All'interno ci sono Tipo Questi nidi Che devi stare attento Perché quando si illuminano E fai rumore Esplodono E iniziano a spawnare cose Però comunque Gli devi sparare Esplodono E spawnano comunque Questi mostri Shattoli Però è figo Perché lo puoi giocare Quando se lo gioca In terza persona Ha proprio la Sesta visuale Che c'ha in Dead Space E poi anche tutta l'atmosfera È molto Dead Space Molto pupa Sta cosa è una genialata Tra l'altro Altra cosina Proprio un mese fa Mi sembra Hanno rilasciato Un altro update Abbastanza grosso Dove hanno introdotto I companion Sì Quindi Puoi tamare gli animali Li puoi cavalcare Figo Cazzo Il gioco ragazzi è vivo È molto aggiornato Tutt'ora Hanno fatto anche un altro Prima di questo Un mega update Per quanto riguarda La next gen Quindi Ragazzi Ve lo consiglio No Man's Sky È veramente un giocone Il bello è che È tutto Tutte cose gratis Quindi non sono DLC A pagamento Sono aggiunte al gioco È vero Quindi se lo pagate Boh 30 euro Massimo 35 Aspetta che ho Stima aperto Vado subito a vedere Costa Poco Cioè per quello Che offre adesso Cioè adesso Varrebbe anche I 80 euro Che lo paga io Per la Play 4 Tra l'altro Apro e chiudo Una pagina In crisi Visto che Con l'acquisizione Di Microsoft Con l'acquisizione Di Bethesda Da parte di Microsoft Nel Game Pass Hanno messo Un sacco di titoli Bethesda Tipo Doom Tutti Quasi tutti I The Scrolls Fallout Chi più ne ha Più ne metta Nel Game Pass Se ce l'avete Trovate anche Nome in Sky Quindi se non volete Comprarlo Ma avete il Game Pass Nome in Sky Poi solitamente Il primo mese Costa un euro Tipo il mese di prova Esatto Esatto Quindi no ragazzi Non vi fate problemi Se avete un amico Che lo gioca su Play Comunque Allora Su Steam Costa 56 euro Ma la versione Di Steam Su Instant Gaming 15 Quindi ragazzi A 15 euro O comunque Pagando totta al mese Col Game Pass Per avere anche Un sacco di altri titoli Tra come dicevo prima Adesso C'è un parco titoli Di Bethesda enorme Sul Game Pass Lo potete trovare Tanto Lo potete trovare Mentre Visto che abbiamo citato Diciamo Dead Space Come horror Spaziale Molto sci-fi E tutto Ora Io ti butto Dead Space Perché è quello Che mi è rimasto Più impresso Ma per te Qual è stato? Perché comunque È lo spazio Molto figo Molto bello Però anche Molto cupo Un po' Per l'ignoto Un po' Perché giustamente Se ci metti Un po' Di fantascienza Puoi tirare fuori Fighe Come Dead Space O come la saga cinematografica Di Alien Per esempio Quando ti parlo Di spazio horror Cosa ti viene in mente? Vabbè Dici del gioco? Ma un po' Di tutto Un po' Di tutto Gioco Film Tutto che Mi manca Mi manca la parte horror Nel tema spaziale Sì Un po' Ne sento la mancanza Io Infatti Sono contento Di Calisto Protocol Sono contento Che comunque È stato annunciato Visceral Game Quindi I stessi Dead Space Che hanno fatto Il loro studio Dopo che sono stati Buttati fuori Praticamente Dall'Eletronic Arts Grazie Bastardi E contentissimo Perché Spero Mantengono La stessa cosa Che Che c'è in Dead Space Nel primo La sua cupezza Comunque Una storia bellina Tutto il gameplay Veramente bello Che ti tiene sempre Sulle spine Spero che riescano A mantenere Tutto questo Nel loro nuovo gioco E che Tirino fuori Qualche twist Di storia Qualcosa di nuovo Visto che Comunque È collegato A Dead Space No infatti Io Grazie Se avete visto Il trailer Sono paesi Riferimenti A Dead Space Però anche Molto figo Ho tanta fiducia In questo progetto Proprio perché Ho tanta fiducia Ad elementi Che hanno creato In Dead Space Anche se Il gioco è affondato Vedi il terzo capitolo Non è colpa loro Ma è colpa Di chi c'era dietro Sì è colpa Di D'Eletronic Che gli ha detto E guardate Abbiamo bisogno Cioè lo dovete fare Per tu Gioco per tutti Non deve essere Il gioco di nicchia Però Penso che Comunque Io non Non so I fatturati Rispetto al primo Però Cioè Quando si parla Di Dead Space Chi ci ha giocato Chi ha giocato Tutti quanti Parla del primo Non parla Del secondo Del terzo Perché già dal secondo Si vede il declino Di tutta l'atmosfera Ancora Ancora ti salva Però Vedi che è più action Il terzo proprio Non ti dà ansia Vai avanti Senza problemi Mega action Non hai sfida Ma mio il primo Il primo lo devo ancora finire Pensa un po' A me ha terrorizzato Sì Per questo non l'avevo finito Mi ha messo veramente paura Perché Sei solo In Cioè Riesce comunque Secondo me Dead Space A A richiamare Vari tipi di paura Da quella più basilare Che proprio paura Non è Ovvero Jumpscare A quella più psicologica E se volentieri C'è anche un po' La paura dell'ignoto A quella un pochettino Più Lovecraftiana Si può Si può dire Magari per molte cose E Bello 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 Tutti abbiamo amato Odiato La USGA Shimura E Mi piacerebbe vedere Esplodere Quella bastarda di nave Davvero Però no Tanta roba E tra l'altro Anche Tutto quello che Magari Si è È stato pubblicato In parallelo Magari alla saga Videoludica Ma per esempio Il film Fatto a cartone Diciamo Però A me è piaciuto Anche quello c'è L'atmosfera di Cristo Comunque Veramente Ti mette una strizza Incredibile Poi è fatto benissimo Ma anche La parte Splatter I mostri Sono fatti alla grande Hanno fatto veramente bene Secondo me L'idea di farlo Con quello stile grafico Lì è stata Una genialata Perché Secondo me Con attori C'ha fatto comunque Con persone Bere Non lo so Sarebbe stato Difficile Ovviamente Non so Come ha reso Non credo Io penso Che comunque In ambito cinematografico Far bene Una roba del genere Sia abbastanza Difficile Non troppo Comunque C'è chi Chi l'ha fatto Ad esempio Chi ha mai visto The Void Che è un horror E i costumi Che ci sono Sono veri Cioè Non è roba in CGI Sono costumi Però c'è Un sacco di lavoro Dietro E quindi Io penso Che Dead Space Se Uscisse un film Deve essere Con costumi Perché in CGI Magari comunque Pezzi CGI E costumi Ci può stare Alla grande Però secondo me Tutto CGI Non renderebbe Però appunto Non tutto CGI E' costoso Il lavoro Dietro nei costumi Comunque Per far muovere Tipo i tentacoli In The Void Di alcuni mostri C'erano le cose Ad aria compressa Tutto un meccanismo Quindi C'è tutto Il miglior modo E' un po' Alla Christopher Nolan C'è fare un mashup Delle due cose Sia magari Il marionettista Magari che muove Quella reference E poi Lavorarci anche In CGI Il problema Che come dicevi te Costa Poi è un'atmosfera Difficile da rendere Anche in film Che forse Ci si avvicina Un po' Con Oddio Quel film Che proprio Riprende molto Dead Space Che hai visto anche te Ah Event Horizon Event Horizon Quello lo riprende Però guardandolo Ti dà un che di Dead Space Ma non hai proprio Quell'atmosfera Quell'atmosfera Bella piena Tanto Dead Space Si è anche ispirato Se non sbaglio Leggermente Un po' Event Horizon Si ma si vede Si ma si vede Cioè se uno gioca Dead Space Prima E poi guarda Event Horizon Dice cazzo ma Questo è Dead Space È molto simile È molto simile Cioè il che perché Diciamo su Dead Space C'è il Come si chiama Quel coso gigante La madre La mente Sì che è La roccia Quella roccia lì L'artefatto Parlo dell'artefatto L'artefatto è Diciamo la cosa Che fa diventare Tutti i pazzi Stessa cosa C'è su Event Horizon Che c'è questa Sfera Che apre il portale Che comunque Cioè poi è comunque La nave Che rende tutti i pazzi Quindi La cosa È molto È molto vicina Ci sono molte similitudini Parecchie Parecchie No io Comunque Per Per Caristo Ho visto Appunto Che è sviluppato Degli autori Dead Space Ripongo una fiducia enorme E non vedo la cresca Non vedo la cresca E non vedo l'ora Di cagarmi in mano Dalla paura Perché Sì spera Sono convinto Che Facciano Ora vedi Che esce una cagata assurda Ecco Se non si sono montati La testa Sul fatto che Tutti amano Il primo di Dead Space Magari Esce una cosa bella O se se la sono montata Comunque spero Che esca comunque Qualcosa di bello E di valido Sì Perché io penso Che in tantissimi Li vogliono vivere Quell'esperienza E su Calisto Vogliono quell'esperienza Cioè io voglio Quell'esperienza Su Calisto L'esperienza del primo No poi Come ti dicevo Prima ci sta Anche perché Manca un po' L'horror Nello spazio Ultimamente Una cosa che Ne risento Perché Essendo un argomento Bello Che a volte Anche se non ci metti Proprio dei mostri Potrebbe fare Di per sé paura Perché è una cosa Immensa L'ignoto Poi Spavento un po' Tutti Ecco Quindi sono contento Di rivederlo Perché Utilmente Se ci sono dei giochi Spaziali Si parla di Vedi No Man's Sky Esplorativo Sì è quella cosa Che un po' Ti inquieta Molto Se Dead Space Non è un gioco Di paura Mi piacerebbe Vedere anche Dell'horror In questo campo Qua Ma poi Io non so Se sono usciti Altri giochi Simili Dopo Dead Space Quindi Spazio e horror Non lo so C'è un gioco Che tu me ne hai parlato Mi sembra Però non è proprio Spazio spazio C'è una cosa Sì Argomento spazio Però un pochettino Più di stretta Mi sembra Dentro una nave aliena Un gioco Mi avevi fatto vedere Che ci sono anche Delle armi strane Che sembrano organiche Ah Scorn Bravo Sì Già quello lì Mi inquieta Perché è proprio Un tipo di Organico Passatemi il termine Che mi spaventa Tra l'altro mi ricorda Palesemente Una puntata di Love Sì 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 Presente Stupenda La puntata Però mi inquieta Il brutto Ho un po' paura Per ambientazioni Che mi sembrano Un po' monotone Però Sì Comunque Da dei gameplay Che ho visto È un gioco Molto Su enigmi Ok E poi ci sono Tipo questi mostri Che devi ammazzare Devi riuscire a superare E così via Spero Che Non sia Tutto Atmosfera Spero che sia Bello Divertente Anche di gameplay Che non ti rompa Le palle Sì Sì Neanche di storia Che sia comunque Interessante Però è figo C'è davvero Questa Quest'idea Di organico Le armi sono organiche Sono tipo Mostriciattoli Le armi I proiettili Uguali Ho visto che c'è tipo Una A giro puoi trovare Le piccole fabbriche E Tramite le cose Che hai trovato a giro Ti puoi creare Tipi di munizioni diversi Che Sono Tipo Girini Mi sembra Dunque C'è questa idea Di cose Tutto è vivo Tutto molto Splatterone Come ambientazione Sembra figo No Mi garba parecchio Cioè Solo che Non mi sono informato tanto Visto soltanto Un gameplay Che mi avevi Mandato Te Che era molto figo Però dai Vediamo un po' Cosa Speriamo Io è anni Che lo seguo E lo aspetto È anni che ne parli Infatti Scorn Scorn Lo legge anche su Steam Ed è anche con Xbox E dovrebbe essere Non so se nel Game Pass Subito Quando esce Vediamo un pochettino Non mi faccio Ora È TBD E Però è ganso È Molto interesting Ah è una cosa che Non c'entra niente Con lo spazio Tipo Resident Evil Village Ok Che Che cosa ne pensi A parte che È tutto Atmosfera Che riprende Il Il 7 Ma credo sia anche un continuo Qualcosa del genere Allora Visto che siamo in tema horror Cosa ne penso di Village Allora La prima persona Io Faccio Eh Ci sta Ok Siamo Siamo obiettivi Ci sta Mi piace L'integrazione Col VR Per esempio Anche che c'era di Resident Evil 7 Era qualcosa di fantastico Ma me l'hanno detto in tanti Che hanno provato Proprio Col VR Io ho provato a giocare Resident Evil 7 Con il VR Poi ho smesso Perché non riusciva Ad andare avanti Gioca a Dead Space Madonna Santa No Adesso esce Doom 3 Che comunque Se ti ricordi È il Doom più horror Di tutti Con il VR Sono curioso Sono curioso Però Village Secondo me Potrebbero fare un bel lavoro Perché ho visto Che l'ambientazione Io il problema Che ho avuto col set È stato I nemici monotoni Cioè Sempre gli stessi E ambientazione Che boh Non Mi ha preso all'inizio Poi è andato a scemare Sempre 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 di più Village Già ho visto Parecchie ambientazioni Castello Le cantine Le garotte Sì È tipo come se fosse È proprio un villaggio Vecchio Sembra proprio Un villaggio Rimasto vecchio Rimasto ignoso a tutti A parte al coglione Che siamo noi Che ci dobbiamo andare Esatto Quindi C'ha un po' di richiami Un po' per l'atmosfera Secondo me Anche con Resident Evil 4 In questo villaggio Poi c'era anche lì Il castello Cioè E la cosa mi garba Come Ti garba Come dicono in Toscana Mi garba Mi garba Mi garba Perché con te A volte mi esce Il mare Mi esce Il mare Ma fila E come mi garba Nei nemici Cioè Mi coinvolgiscono Alcuni Tipo la Sottospecie di Lupi Mannaghi Mi piacerebbe Un attimo Approfondire Le tipe Ecco Diciamo che Sulle tipe Avrei un attimo Boh Diciamo che Il fatto di essere inseguiti Ti terrorizza Ok Ma non da allora Da allora Mi mette un po' d'ansia Però fino a un certo punto Cioè deve essere Prendetemi Non so Però Ci sta Vediamo un attimo Anche la trama Come sarà Io La cosa di tutti Resident Evil È Perché ci deve essere Sempre quel Mostro Che ti ritrovi In tutta la campagna Tipo il Sì Tipo il Tyrant Che ti devi scappare Poi lo ammazzi Alla fine E così via Te che cosa ne pensi Cioè Secondo te È Il Punto Forte Può essere La firma Loro Può essere Una palla Assurda Allora Ottima osservazione Perché Nel 2 Ci sta Anche proprio Storicamente Per come Remake Nel 3 Per quanto io Ho odiato Il remake Di Resident Evil 3 Però ci sta Perché nell'originale Comunque eri Costantemente inseguito Diciamo dal Nemesis È lo stesso Tipo di paura Cioè il fatto L'ansia di essere Costantemente inseguito E io Mi sa un po' Come te Che un po' Si è dedotto Dall'intonazione Ho paura Che inizino un po' Ad abusare Di questa cosa Perché Bello Ci sta Però se tu Ogni gioco Me lo fai così Iniziano a girarmi le balle La paura Non deve essere Soltanto quella Di essere Costantemente Inseguito Devi essere Capace Di trasmettermi Paura Con la storia Con la narrazione Con le atmosfere Con un po' Di tutto Cioè devi Saper giocare Su quello Se tu Vedo Che inizi Soltanto a mettermi Questo elemento Come paura Mi fai pensare Che non hai Tante altre idee Non hai finito Le idee Sembra come se Non sanno più Come farti Spaventare Non lo so Quindi boh Temo un po' Sta cosa Ho paura Che l'otto Sia diciamo Un 3 Barra 2 Remake Ovvero che Sei costantemente O quasi Io penso che Tipo quelle Vampirelle Siano una roba Che ti inseguono Costantemente Ficché poi Penso non le ucciderai Tipo Anche come La signora Tettona Lei non so Se può essere Anche lei Un qualcosa Che ti potrebbe inseguire O manda le loro scagnozze Dopo che hai ammazzato Le vampire Dovrai ammazzare Lei come boss E boh Io penso che Sia un po' Palloso Dopo averne Giocati diversi E c'è sempre La stessa Cosa Sarebbe bello Vedere un po' Un cambiamento Che riescano A tenerti In un modo Esatto Cioè Hai sempre Questa costante Ansia Di essere Inseguito E A volte Magari Proprio perché Quello che ti insegue Vedi Mr. X Resident Evil 2 Non puoi ucciderlo Quindi è un mix Tra ansia Devo soltanto scappare Esatto Uno Se si impegna Può fare altro Dead Space È un esempio Perché in Dead Space Tu i mostri Li potevi uccidere Eppure ti faceva Cagare in mano Dalla paura Nonostante Comunque eri pieno Di armi E munizioni Diciamo Però ti metteva Ansia Se vogliono Possono Se ne sono capaci Risporverare un po' Quel tipo di paura Molto più O magari Se ti mettono Un qualcosa Di grosso Che ti insegue Di potente Possono fare Che riesci A mandarlo via Perché Ad esempio Nel 2 O nel 3 Volevo farmi Un po' I cazzi mia Ma soprattutto Nel 2 Però ti ritrovi Lui che poi Ti insegue Tutto il tempo Tutto il tempo Finché non arrivi Al punto dopo E magari Volevo fare altro Volevo godermi Altre cose Ma non ce la fai No Non ce la fai Perché magari Riesci a stare 10 secondi In una stanza Poi senti Boom 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 Che ci sta Perché giustamente Ti mette ansia Però è sempre Lo stesso tipo di ansia Sarebbe bello Avere più sfumature D'altra parte però Parliamo un po' Di Resident Evil Che comunque Per quanto i primi Siano stati fighi E tutto Non lo reputavi Proprio un vero 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 Oro Cioè almeno Io sempre Facendo il paragone Perché sono quelli giochi Che mi ricordo Su play 1 Ho sempre più Reputato Oro Che un Silent Hill Per esempio Che era molto Psicologico Sì è vero Però boh Staremo a vedere Questo Questo Villaggio Che comunque A me in prima persona Mi piace Ti rende molto Di più L'atmosfera E poi comunque È quello che Volevano anche Fare loro Per darti Più atmosfera Per metterti Un po' Più dentro Il gioco L'hanno voluto Fare In In prima persona Ci sta Mi è piaciuto Giocare il set In prima persona Sì no ma Obiettivamente Ci sta È più che altro Una fatica mia Che sono legato È come se Magari per una vita Che abbiamo Giocato a Diablo Con quella Visuale lì Che adesso Mi sfugge Il termine Te lo mettessero Oddio scusa Te lo mettessero In In terza persona Mi fai isometrica Isometrica Bravo Magari è figo Però All'inizio Fai un po' Di fatica Questa roba Dov'è diavolo Dov'è diavolo E quindi No niente Vediamo un po' Sto village Spero che Da quel che ho visto Promette Secondo me Un pochettino Maglio D'ursale Io Io sono sicuro Che sarà bello Però È l'atmosfera Di cui non sono Mai sempre sicuro Si fa sempre Fatica È difficile Perché devi essere Devi essere Un ottimo regista Devi essere Veramente bravo A A lavorare Bene su quello Perché secondo me Potrebbero benissimo Perché tanto Non sei sempre Con munizioni E Quindi Non Cioè Può Possono Rendere L'atmosfera Nello stesso modo Che te la rendono Con il coso Che ti insegue Di continuo Con i mostri normali Perché poi sei Senza armi Senza munizioni Non sai come ammazzarli Alla fine Devi riuscire a scappare Anche da loro Esatto Esatto Potrebbero fare Cioè Possono fare Una cosa uguale E cercare di modificare Un po' Quello che è Resident Evil Che Fa sempre un po' Bene Se è fatto bene Il cambiamento È bello Esatto Bravo Se è fatto bene Rinnovarsi È un'ottima Un'ottima cosa Vederemo Vederemo Ci sono Un po' di giochi In cantiere Interessanti Su tema horror Quindi Sono contento Di questo E pochi su horror Spaziali E pochi su horror Spaziali Perché a parte Calisto A me non viene Non viene in mente Nient'altro In questo momento Stavo un po' Cercando Anche prima Su google Però No ma Ma poi Il bello Dell'horror Nello spazio Puoi fare di tutto Perché Non si sa Che forme di vita Ci sono là E quindi Te poi Puoi fantasticare Ad esempio Un film No Una serie tv Mi sembra Another life Che te la devi guardare È una figata Vabbè È una figata E c'è praticamente Ci sono cose Di batteri Che non conosci Che poi Ti rompono il cazzo Ti possono dar fastidio E anche qua Quindi c'è Non sai che cosa c'è E poi è fantasticato Su quello che vuoi Come in un film Appunto Una serie come questo Ci sono batteri E te puoi fantasticare Sull'effetto Che ti danno Sì no esatto Cioè È un tema Che ti lascia Una quantità Di spazio Immenso Anche letteralmente È quasi infinito Quindi no Tanta Tanta roba Ma invece Così domanda Già che siamo In tema spazio Chiudendo un attimo Argomento Un po' Videoludico E tutto Come vedi Il futuro Per l'umanità Per quanto riguarda L'ambito spaziale O comunque anche in generale Perché credo che le due cose Poi a livello Su termine Siano strettamente legate Tra loro Se si continua Se si continua così Probabilmente Fra cinquant'anni Siamo morti noi Ma non perché Avremo ottant'anni E ci prende un infarto Anzi no Tra cinquant'anni Ne abbiamo settanta E non perché Per un infarto Ma perché Implode il nostro pianeta E se I capitalisti Riuscissero A trovare Il modo Come fa Elon Musk A sostenere Di più Il pianeta Secondo me Diventa una civiltà Molto più curata Il pianeta Ne risente Al meglio E diventa Tutto molto più bello Stesse cose Secondo me Avremo Una luna Colonizzata Nel miglior modo E con intelligenza E uguale Marte Penso che In un futuro Marte sarà La seconda casa In cui poter fare Fabbriche Anche se non so Lì l'atmosfera Come potrebbe Risentirne Però Fabbriche di alcuni tipi O comunque Altre cose Che insomma Un modo Se Andiamo avanti In modo intelligente Secondo me Il futuro Lo vedo figo Cioè lo vedo Proprio Aspetta che sono Un po' troppo buio Ma sti cazzi Puoi tornare No no Il problema È proprio quello Che Secondo me Purtroppo Non andremo avanti In modo intelligente Cioè Siamo stupidi Tipo Sostanzialmente Siamo stupidi E Finché il problema Non è proprio A brevissimo termine Tipo Sta per accadere domani Non ci pensiamo E facciamo un po' Scarica barriere Dai Poi ci penseranno Continuiamo magari a fare Che tanto poi qualcuno Più avanti O qualcun altro Anche adesso Però qualcun altro Ci penserà È proprio la mentalità Che ha sbagliata Sia comunque Del civile Sia del Magari Capitalista Cioè Una volta Che mi pare Lo dissi anche In un'altra live Comunque Con il mio fratello Stava parlando Di una roba Aspetta che mi accendo Un attimo Una cosetta Per mettermi la luce Ok Prima che Fino anche Non ritorna il sole Scheda nuova Di google chrome Esatto È il mio paretto Comunque Con il mio fratello Una volta Sero entrato In questo discorso Del fatto che Se noi Siamo qua È perché È grazie Allo sfruttamento Di qualcun altro Se siamo In un paese Ricco Tra virgolette È grazie Allo sfruttamento Di un paese Più povero E così via E ho detto Sì però Poi Se la gente Non pensa A Al nostro pianeta Che è la cosa più importante Purtroppo da dire Rispetto allo sfruttamento Minorile Perché senza pianeta Non c'è un cazzo di niente Se nessuno riesce a pensare Al nostro pianeta Che è la cosa più importante Per sopravvivere Figuriamoci se pensano Allo sfruttamento minorile Sì sì Non Non pensano a nulla Dobbiamo essere noi Ovviamente Io Sembra Ci facevano i meme Quando eravamo in lockdown E quindi non c'erano più macchine a giro Tutti a casa Ma non c'era quasi più smog Cioè il nostro pianeta È ritornato a respirare In quel mese La terra È respirato Davvero Io ho visto Cioè riuscivo a vedere Firenze alla grande Dal mio terrazzo E se no C'è un po' di foschia Perché è lo smog Però Capito Cioè basta poco Fa riflettere Già Sembra una stronzata Ma già mettendo le macchine Elettriche In tutto il mondo Buttare via le altre Se i capitalisti Riuscissero a trovare Un modo Per rifare Gli stessi soldi Ma in modo Più sostenibile Con la roba elettrica Cioè Già lì È un mega passo Eh il problema È uno Tutte le aziende Petrolifere Il petrolio ha ammazzato Non so se Sono riusciti a recuperarla In qualche modo La barriera Corallina Una delle più famose Perché si è bucato Il cargo Dove lo causavano Ed è uscito tutto Sulla barriera Corallina No no infatti Ha anche ucciso Poi per Quantità abbastanza grandi Di guerre Che sono state fatte Anche per il petrolio Cioè Fa riflettere tanto Io anche sinceramente Come te temo Sta cosa Perché dico Che è figo Tra 8 anni È bello pensare Che ci saranno Delle persone Come adesso Come è da parecchi anni A questa parte Ci sono delle persone Che non sono più Sulla terra Cioè ogni anno Tutte le persone Non sono tutte Sulla terra Perché adesso Con la stazione spaziale C'è sempre qualcuno lì Sembra è figo pensare Che c'è magari Un bel po' di gente Su Sulla luna Su Marte Come se fosse una città Diversa Esatto Il problema è che Se noi andiamo Su questi pianeti A caso della luna Su questo satellite naturale Con la stessa mentalità In cui viviamo Sulla terra Tempo tra Tra Tantissimi anni Ma neanche troppi Siamo di nuovo punto da capo Il problema è proprio quello Che tu non ci pensi Perché tu dici Ah vabbè Magari succede tra mille anni Io non ci sono più Non è un problema mio Il problema è che Siamo noi In questo momento Che abbiamo la possibilità Di mettere Diciamo le Le basi Su una nuova mentalità Tra molte virgolette Che Basi Fino a un certo punto Ognuno di noi È banale dirlo Dovrebbe fare il proprio Il problema sono i vecchi Come l'Italia L'Italia è un paese di vecchi Cioè Io Mi pare L'ottanta per cento Sia di vecchi E il paese È in mano dei vecchi Se fosse in mano Dei giovani Ma come Tipo le aziende Dei capitalisti Ancora ci sono i vecchi Probabilmente I giovani Vivono di più Il fatto Che il nostro pianeta È un po' È in molto declino Rispetto a Quando riniziati Loro a fare I capitalisti Purtroppo La maggior parte Delle persone anziane Ha una mentalità A sua volta Anziana E A una certa età Poi ancora di più È più difficile Cambiare proprio Mentalità E modo di vivere Non è impossibile È semplicemente Molto più difficile E Quindi Finché sono Queste persone Comunque A Diciamo Dettare Un po' Le leggi Sia Magari Sia in ambito Politico A volte Ma Ma anche Comunque In ambito Come si parlava Adesso Capitalista Diciamo Il problema Rimane Il problema Rimane E spesso Involentieri Dai anche Una cattiva immagine Trasmetti Anche Un cattivo messaggio Perché Sì Il problema Sono i vecchi Ci sono anche Molti giovani Che sono anche Stupidi Vedi anche adesso Tutti i casini Che stanno uscendo Per i Quelli che pensano Che il covid Non esista Ok Va bene Per carità Ognuno è libero Di credere Pensare Quello che vuole Però dal momento Che comunque Il tuo pensiero Può portare Morte Perché se tu Non metti la mascherina Rischi comunque Di contagiare Una persona Anche anziana Dalle patologie Che grazie Boh Siamo Siamo stupidi Sostanzialmente Siamo veramente Un popolo Di idioti Cioè Proprio L'essere umano Una specie Di idioti Siamo proprio Sì Siamo proprio stupidi Siamo veramente stupidi Diciamo di essere Di spaccare E fare Spacchiamo Ma in altro modo Spacchiamo proprio I maroni Il mondo Esatto Cioè io Intanto mi piace pensare A come sarebbe Adesso il pianeta terra Senza di noi Starebbe da dio Ma più che altro Che cosa Cioè Quali altre specie O come Parte di stare bene Ma Ma com'è che starebbe Cioè Comunque Sicuramente Una figata Di natura Però Perché poi Insomma Non eravamo noi A decidere Le sorti Di alcune cose Come Tutte le Gli animali Che ammazziamo Le specie marine Che riusciamo A far istinguere Siamo bravi In quello Davvero Cioè Noi Ok Il fatto è che La cosa bella È che succede Anche in natura Il fatto Del La Il leone Ammazza L'antilope E così via Però c'è un equilibrio Esatto Quello che abbiamo ucciso noi Per la massa Ad esempio Stavo guardando Sempre su Disney Plus Una roba Dei fondali marini Sul fatto che Comunque le barriere coralline Sono Cioè Aiutano Noi viviamo Grazie alle barriere coralline Perché è il cuore Del mare È proprio quello che È tutto L'ecosistema Perché poi Nutrono i pesci I pesci magari Si riproducono lì E così via Insomma Anche proprio Le barriere coralline Sono vive E quindi Già Aver ammazzato Tutte le Tantissime specie Che vivono Nelle barriere coralline Vai a vedere Sono morte anche Le barriere coralline E quindi Questo è Proprio Cioè Stiamo ammazzando Tutto No no Sì Stiamo decidendo Troppe sorti Troppe cose Con quella mentalità Che abbiamo Attualmente Che fa schifo Sorge un altro Problema Che poi va A ampliare Quest'altro Problema Di avere Sta mentalità Qua È brutto Da dire Quindi Prendete Con le pinze Quello che sto Dicendo Però Obiettivamente Vero È che Siamo in Tanti Siamo Veramente In tanti E le previsioni Di crescita Entro Che ne so 2050 Si stima Magari Se non sbaglio Poi ripeto Fatevi voi Delle ricerche Andate a vedere Su ricerche scientifiche Che io adesso Non mi ricordo Però mi sembra Che si stimava Su 10 miliardi Di persone È un cane Che si morde la coda Più siamo Più diciamo Il bisogno La richiesta Aumenta Quindi le produzioni E tutto Quindi Anche L'inquinamento Perché comunque Ognuno di noi Ha bisogno Di mangiare Come Mangi te Mangio io Ognuno di noi Magari La maggior parte Ha un veicolo Come magari Ce l'hai te Ce l'ho io E così via Le cose Avranno in declino Tanto Ad esempio A me Da una parte Piace pensare Cioè È brutto Pensarlo Ma che il covid Sia stato Tipo una sottospecie Di selezione naturale Come comunque Sarà già successo In passato Una roba del genere È brutto Da pensarlo Ma comunque È una roba Che è stata Che potrebbe Succedere Non è proprio Selezione naturale Però ecco Sì no Sono quelle cose Che purtroppo Ogni tot Sono capitate Pandemie C'è stato Prima guerra mondiale Cos'era L'influenza spagnola Poi c'è stato Anni cinquanto Più avanti Sono robe Che fanno male A noi Ma fanno bene Al pensiero Del pianeta Perché Stiamo diventando Troppi E L'averci costretto A stare in casa Ha un po' Risollevato È tutto inutile Perché giustamente Dopo un mese Eravamo di nuovo Punto da capo Però no Siamo in tanti Bisogna pensare A un modo Giusto E salutare Tra l'altro Bill Gates Mi sembra aveva parlato Di questa cosa Aveva ipotizzato Una bella idea Ti faccio Diciamo Vi faccio un recap Al volo La sua idea era Nei paesi Del terzo mondo Purtroppo Le morti infantili Sono Il tasso di mortalità infantile È molto elevato E questo Aumenta Diciamo La La procreazione Perché Loro puntano Per salvaguardare Magari La propria famiglia Quindi Forza lavoro Poi anche Deve diventare Quindi Cosa succede Essendo che la mortalità infantile È tanto Loro creano di più Creano più figli Di più E Quello che Si pensava Che tra l'altro Ha detto Bill Gates In un TED È molto interessante Perché diceva Se noi riusciamo A curare A curare Molte malattie Che purtroppo I paesi Del terzo mondo Hanno Riduciamo Di tot percentuale Il tasso di mortalità infantile E quindi A nostra volta Stiamo dicendo Essendo che uno Implica l'altro Stiamo anche riducendo Il tasso Di nascita Perché giustamente Fortunatamente In questo caso Meno morti Ci sono Meno comunque Le famiglie Del terzo mondo Si riproducono Quindi hai due benefici Hai un bene Hai tre benefici Hai debellato Dei problemi Hai ridotto Il tasso di mortalità infantile E in un modo sano E intelligente Hai anche ridotto Quella che Lo sviluppo di crescita Della popolazione mondiale Questa è una Bella idea È geniale È assolutamente Sì Anche perché Noi Uno Due E quando Si fa un figlio Uno Due C'è chi ne fa tantissimi Però non tutti Magari Nei paesi del terzo mondo C'è Ci sono dieci famiglie Tutte e dieci le famiglie Fanno dieci figlioli Hanno culo E tutti e dieci Sopravvivono E sono tantissimi Continuano così Vai avanti Per Miliardi di persone E diventa Veramente tantissimo Quindi sì Questa cosa Anche perché Che purtroppo Le persone nel terzo mondo Sono Sono tante Nonostante Uno dice Eh vabbè ma Produciamo un sacco di cibo Potremmo sfamare chiunque Nonostante questo C'è ancora veramente Tantissima gente Che muore di fame Ad esempio Anche questo fa riflettere Fecero un servizio Di tutto il cibo Che noi buttiamo Possiamo riempire 23 milioni di tir All'anno mi pare E quindi C'è questi 23 milioni di tir Salvo a voi A sfamare poi Questa gente Ma c'era come uno Studio scientifico Ora non mi ricordo dove Quindi Andate a ripescarlo Se cercate Trovate qualcosa Che diceva che Volendo Con tutto il cibo Che si produce Tra quello che mangiamo noi E quello come hai detto Te che buttiamo Ci sarebbe la possibilità Di debellare O tutto O comunque In ottima parte La mortalità A causa Della mancanza Di cibo Questo fa riflettere Tanto Il problema Che Tra capitalismo Consumismo E tutto E tra il fatto Che comunque Stesso noi Ma mi ci mette in primis Anch'io Non vivendo Fortunatamente In quei contesti Non ci pensi A volte Semplicemente Non ci pensi E puoi applicare Questo discorso A quello che facevamo Della terra Sì esatto Non vedendola Diciamo Nel breve termine Non ci pensi Anche se Ora come ora Come stanno le cose Il rischio Di vedere Nel breve termine Cioè Uno comunque Non lo vede O non lo pensa Ficché non lo pensa Ecco Magari come noi Che ci piace lo spazio Quindi Sentendo la gente Parlare O comunque Sapendo un po' Di cose Logiche Possiamo Già se Le temperature Continuano a salire Lì Ci estinguiamo Se Si sciolgono Tutti i ghiacciai Un casino Assurdo Perché comunque Sembra stupido Perché Dici ok Va bene Sono Due ghiacciai Su tutti il pianeta Quanto può essere Tantissime Tantissime Città Verrebbero Sommersi Ad esempio Le dolomiti Le dolomiti Sono Un enorme Barriera corallina Le dolomiti Erano Sommersi Dall'acqua Prima Quindi Già pensare Anche al fatto Di come Tutto è cambiato Che Cioè le dolomiti Sono giganti Quindi quanto Si è abbassato Il livello Del mare E potrebbe Rialzarsi Anche fino a lì Non lo so Ma comunque Potrebbe alzare Tantissimo Pensare Ad esempio A una New York Completamente Sott'acqua Waterworld Waterworld Esatto Waterworld Non sarei spacciato Io fortunatamente No Quanto stai alto Te Mi pare 850 A 400 metri A livello del mare Guarda Se hai il posto Mi trasferisco Vai vai Quindi niente Purtroppo anche qui Finché non Non ci pensi Non ci pensi Ecco Non è che O se è uno che gli piace Ste cose Proprio non ci pensi E secondo me La NASA O chiunque Pensa a queste cose Di spazio Terra Eccetera Dovrebbero fare Molta più Divulgazione In tutto il territorio Mondiale Per divulgare I problemi Che effettivamente Ci sono E mostrare In qualche modo Qualche Prova tangente Di quello Che stiamo facendo Il problema Che anche Quando divulghiamo Poi La cosa ti entra Ci pensi Per un giorno Poi l'indomani Sedi un punto da capo Non puoi manco Mettere troppa paura Perché sennò Vedi il panico Cosa succede Vediamo anche All'inizio Diciamo Della pandemia Il panico Cosa Ha generato Il panico È una cosa tremenda Quindi Cometterà giostri È un casino È veramente Un bel casino Eh ragazzi Oggi puntata È un po' diversa Dall'inizio All'inizio È un po' Cigre Poi molto Pesante Fa riflettere Sono argomenti Che fanno Riflettere parecchio Sarebbe bello Comunque Che moltissime persone Si interessino Al mondo Dello spazio A tutte queste cose Della scienza In modo da poter Pensare Anche a Diciamo Noi possiamo Vedere effettivamente Quali sono i cambiamenti Col fatto che Comunque siamo appassionati Di queste cose Però chi non ci ha mai pensato Non ha mai guardato niente Non si è mai interessato Non vedrà mai niente Noi già un pochettino L'occhio ce lo possiamo avere Esatto Ragazzi dovete Bisogna informarsi Informarsi E fare la nostra parte Cioè Una volta dice Ah ma questi sono problemi Che riguardano I cervelloni Non serve una laurea Per essere furbi E intelligenti Cioè Una laurea Non è sinonimo Di intelligenza Esatto È sinonimo Di costanza Costanza Un po' di conoscenza Su quel determinato argomento Perché Per esempio Io studio ingegneria Magari ne so qualcosa Di matematica Se mi parli giurisprudenza Sono ignorante Vabbè Appunto Perché comunque Studi quello E sei costante Su quello Però esatto Cioè Informatevi Informatevi Rimanete aggiornati Informatevi Dalle giuste fonti E da più fonti Sempre vedere Tante cose diverse Perché Esatto L'attendibilità Anche della fonte Perché Soprattutto in quest'anno Con il covid Abbiamo visto Quanto è potente Quanto è grande La disinformazione A causa anche dei media E quanto è potente C'è un sacco di gente Disinformata Ma credo Una quantità enorme Cioè Tipo mio nonno Che da sempre La colpa ai cinesi Ovviamente Perché Arriva dalla Cina Quindi è colpa Dei cinesi No Però E lui dice Che sono stati loro A crearlo E a buttarlo Però Poi Se uno magari Conosce un pochettino Le cose Si informa Dici Cazzo Però Se è stato fatto In laboratorio Ciò che crei Distruggi E non è facile Distruggerlo Comunque Il covid Se no Non c'erano Milioni di persone Dietro a lavorare A vaccini Se Lo Se lo crei Qualcuno Può vedere Effettivamente Se è stato creato Se ha le conoscenze E nessuno ha visto questo Se È stato creato Allora perché ci sono Tutte queste evoluzioni Tutte queste Come le chiamano Le varianti E quindi Non è come dire Ok Io creo Un cervello Tipo Nia Però E poi Questi A una certa Gli figlia Si evolve Inizia a pensare Come noi Alla fine poi Diciamo Il tuo prodotto Ti stugge di mano E ti si ritorce Contro Diciamo Cioè Lei dice Cioè è difficile Sinceramente Che possa prendere Una sua Piega E iniziare A evolversi E quindi Non sarebbe successo Con il covid Se fosse stato Creato in laboratorio Esatto Ma poi Poi c'è quella agenda Che mi fa ridere Che dice Eh l'hanno creato In laboratorio E nonostante ciò Girono senza maschera Ora Mettiamo tra parinchesi Il fatto che sia naturale Creato in laboratorio O no Questo non toglie Il fatto che c'è Quindi Adesso pensiamo A risolvere questo problema È una cosa naturale Perché giustamente I ricercatori Hanno visto Che non c'è Nessuna alterazione genetica Da parte dell'uomo Quindi Succede Ragazzi Non è la prima volta Che succedono queste cose E succederà ancora Continuerà a succedere Succedere A succedere Ma comunque La gente secondo me È capace Di dire che È colpa di qualcuno Anche se Sta per cadere Un meteorite Su di noi Sì 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 La cosa Per esempio Dei complottisti Sfugge parecchio di mano Perché Ora Non Essere certi Dire no È tutto falso Non Giustamente Non conoscendo bene Le situazioni Non posso dirlo Però Il 90% Delle cose Che vengono tirate fuori Dei complottisti Sono Ma proprio anche È logica Falsa Quindi anche lì Ragazzi Informatevi Usate la vostra testa E guardate E guardate come si diceva Prima Intanto da fonti Attendibili E da più fonti Sentite sempre Tante campane Come Quando deve avere Un preventivo Vai da tantissime persone Magari trovi comunque Quello che con La stessa qualità A prezzo più basso Ti fa le cose Quindi stessa cosa Comunque con questo Cioè no Nel senso che Solo uno avrà ragione Però Metti più idee Insieme E alla fine Capisci Quale è la verità Esatto Bravo Esatto È quello che manca È quello che manca Però ora siamo arrivati A un'ora e 21 Buona puntata Mi è piaciuta Mi è piaciuta Però non abbiamo più Cioè non abbiamo parlato Proprio dello spazio in sé Tutte le cose fighissime Le teorie Buchi neri Wormle Eccetera Che un giorno poi Lo rifaremo Sì Mi ha cominciato anche La maglia post Esatto No un giorno poi Magari se ne va Abbiamo divulgato parecchio Però Ci sta Ci sta Quindi Dai Siamo arrivati alla fine Anche di questa Punta tozzina Molto lunga Dylan aveva solo un'ora Ma ha ritardato Delle sue cose Di 20 minuti Io ora dovrò Subito renderizzarlo Perché oggi è lunedì L'abbiamo registrato Un giorno in ritardo Io ieri non potevo Esatto E moltissimo Quindi signori Che dire Spero che vi sia interessato Anche se purtroppo L'interesse in questi podcast È poco Ma con la costanza Raggiungiamo tutti i nostri obiettivi Quindi speriamo che In diverse persone Comunque Quelle che lo guardano Gli piaccia veramente Perché a parere mio Comunque parliamo di cose interessanti Perché I videogiochi Possono essere una cosa banale Ma non sempre Perché ci puoi tirare fuori Tante cose fighe Anche della realtà Come quello della storia Questo dello spazio Eccetera Comunque dai È arrivata anche a fine La sigla Tanto Quindi niente signori Ragazzi Si vede il prossimo Martedì alle 14 Si vede il martedì prossimo Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli